Metalli pesanti e micotossine nel pane, nella pasta e nelle merende. La froda è particolarmente grave perché la merce era destinata, tra l'altro, a bambini di 2 e 3 anni. La forestale denuncia 14 imprenditori e sequestra oltre 10.000 quintali di semola. I livelli di piombo erano in pratica superiori ai limiti consentiti. Micotossine, in particolare Deossini, Valenolo, sono state trovate in due formati di pasta che per sagoma e confezionamento inducevano il consumatore a ritenere che fossero indirizzati all'alimentazione dei più piccoli. Anche su di un terzo del pane di semola di grano duro campionato, infine, è stato rilevato il superamento dei limiti previsti per legge se destinati ai bambini fino a 3 anni, delle micotossine di metalli pesanti, piombo e cadmio, tutte sostanze tossiche per l'uomo, alcune cancerogene. Gli imprenditori sono pugliesi e del centro-nord Italia. La semola sequestrata è stata ricavata essenzialmente da grano non italiano. In una ditta privata, dedita alla preparazione dei pasti nelle scuole con bimbi da 2 a 3 anni, è stato accertato l'uso di pasta, pane e merende con piombo superiore ai limiti consentiti. In Puglia, maggiormente interessati al fenomeno sono risultate le città di Altamura, Molfetta, Bisceglie e Barletta. L'indagine, durata circa due anni, è stata diretta dalla Procura di Trani. Molti panifici, in tutto 80 ditte, sono state sottoposte a controllo, riscontrati alimenti con percentuali di contaminanti ben oltre la soglia di tutela. Le indagini hanno messo in evidenza la scarsa attenzione di molte ditte alla problematica dei contaminanti nei prodotti alimentari riservati alla prima infanzia, sostiene il coordinatore dell'attività investigativa il dottor Giuliano Palomba del coordinamento territoriale per l'ambiente di Altamura, Parco Nazionale dell'Altamurgia.